Siamo giunti alla non edizione di Poetè, quest'anno il claim armiamoci d'amore perché anche quest'anno noi crediamo indispensabile parlare di letteratura, parlare di scrittura con un intento chiaro che è quello di scardinare l'immaginario collettivo e cercare di migliorare, di creare benessere, di ribaltare stereotipi e di abbattere pregiudizie, ogni forma di stigma e di esclusione. Una serie di appuntamenti a partire dal 20 ottobre con una serata speciale inaugurale in un'altra location, cioè nella sala aerosforza del Decumani Hotel Descharmes a via San Giovanni Maggiore Pignatelli nel cuore di Napoli e poi a partire dal 26 ottobre come sempre al Chiai Hotel Descharmes al centro di Napoli a via Chiai al primo appuntamento con Franco Buffoni e poi una serie di appuntamenti che seguiranno anche diversi eventi, diciamo del calendario come il Transgender Day of Remembrance, la giornata di lotta all'omotransfobia, il primo dicembre che è la giornata di lotta all'HIV, insomma una serie di impegni fino al 17 maggio che è l'ultimo Poetè di quest'anno. Parte venerdì prossimo 20 ottobre la nona edizione di Poetè, il salotto di lettere e di cultura che si propone di scardinare pregiudizi e luoghi comuni. Negli appuntamenti al Chiai Hotel Descharmes si presentano libri, storie ed autori con uno sguardo privilegiato sul tema delle discriminazioni su identità di genere ed orientamento sessuale che in tal modo si diffondono per diventare patrimonio comune nell'ottica dell'inclusione e della condivisione. Numerosi ed attraenti gli incontri in programma fino a maggio, tutti ad ingresso gratuito. Il comune di Napoli è molto vicino a tutto quello che riguarda il contrasto alla violenza e a ogni forma di discriminazione, nel caso specifico la discriminazione nei confronti di orientamenti sessuali altri da quelli considerati normativi. L'approccio di carattere culturale è significativo perché non riguarda semplicemente una questione di politiche sociali ma riguarda proprio un modo diverso di educarsi all'altro, quindi alle differenze. Napoli ne ha molto bisogno perché comunque fenomeni di discriminazione ancora ci sono.